Nella seduta consigliare di ieri, giovedì 27 settembre, l'Assemblea ha deciso di destinare ad uso pubblico l'edificio del Tiberio Palace Hotel, una struttura di 11 piani già acquisita al patrimonio comunale, nella quale dunque saranno trasferiti numerosi uffici pubblici, una operazione che consente di dismettere i fitti passivi per quasi 3 milioni di euro e di risparmiare ulteriori 11 milioni per la rinuncia ad adeguare altre sedi comunali. Come per il Tiberio, ci sono altre centinaia di immobili e terreni di cui il Consiglio deciderà l'uso nel prossimo futuro e che potrebbero essere trasformati in palestre, uffici e strutture sociali, ma anche suoli da restituire agli usi agricoli. Noi stiamo avviando un monitoraggio di tutti i beni che sono stati acquisiti al patrimonio comunale per effetto delle attività di repressione, l'abusismo e l'edizione, parliamo sia di immobili costruiti che anche di suoli. Quando un edificio viene demolito e il Comune di Napoli l'ha fatto, in realtà resta anche proprietario del suolo su cui insistiva il bene. Laddove invece ancora non ha demolito, bisogna ancora seguire quella procedura che è stata fatta come per il Tiberio Palace di decidere se demolire o meno e quindi se non si demolisce per utilizzarlo per fini pubblici. È stata invece respinta la proposta presentata dal consigliere Vincenzo Moretto per l'abolizione delle automobili di servizio e la loro sostituzione con buoni per il taxi. Il vice sindaco Tommaso Sodano ha ricordato infatti che le auto di servizio sono già state oggetto di risparmio, che attualmente solo due auto sono assegnate al sindaco e vice sindaco per motivi di sicurezza è che il restante parco auto non può essere dismesso in quanto non di proprietà dell'ente ma in leasing.